Sospiro di sollievo per il Palermo. Rientra l'allarme sulle condizioni di Ilya Nestoroski. L'attaccante macedone sembra avere riassorbito la contusione alla caviglia, subita nella gara di domenica sera contro la Roma. Il centravanti rosa-nero ieri si è allenato regolarmente col gruppo, dando la sensazione di essere abile e arruolabile per la sfida di domenica prossima contro l'Udinese. L'attaccante è stato anche il protagonista di un divertente siparietto dove prometta al team di Formula 1 Force India, che nei giorni scorsi aveva contattato il profilo Twitter della società di Via Delfante, chiedendo se la nuova livrea a Rosa Nero fosse gradita, di esultare col gesto del volante alla prossima rete. Intanto, Diego Lopez, in vista della sfida contro i friulani, ritroverà anche Giuseppe Pezzella, rientrato dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese. Il rientro del giovane terzino Rosa Nero darà al tecnico uruguagio una scelta in più nel ruolo, scalzando con tutta probabilità all'esami. Difficile, invece, il rientro di Rispoli, che ha dovuto abbandonare il campo nella gara contro la Sampdoria di due settimane fa. I dubbi per Lopez riguardano soprattutto la mediana e la sostituzione dello squalificato Bruno Enrique. A sostituirlo potrebbe essere Alessandro Diamanti, che sta riguadagnando posizioni nelle gerarchie interne, grazie anche alla buona prestazione fornita contro la Roma.